Viterbo per i ristoranti Ravena per il cibo sono le città con i maggiori rincari secondo la classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato gli ultimi dati Istat sull'inflazione annua di maggio. I servizi di alloggio costano in media nazionale il 13,6% in più rispetto a maggio 2022. In alcune città il rialzo è stato però maggiore. A Firenze che è in testa in questa categoria il rialzo annuo è del 53%. Al secondo posto Palermo con un incremento del 35,9% medaglia di bronzo a Milano con il 27,7%.